salve ragazzi sono z oggi il video un po particolare più che altro perché questi video sono pre registrati e quindi avendo fatto delle dirette su twitch durante le sessioni cioè durante il momento prima delle sessioni sono riporto male al giorno prima ho disattivato il microfono di obs e quindi mi sono ritrovato a registrare un'intera sessione senza microfono questa cosa è successa anche un'altra volta perché ovviamente io sono uno che ripete molto spesso le proprie abitudini e se faccio una cosa diversa me ne scordo purtroppo questa sessione è andata persa quindi vi sto facendo un riassunto perché preferisco questo piuttosto che rigiocarsi l'intera sessione in maniera molto più scriptata e presemente falsa voglio lasciare un'impronta di interpretazione e sorpresa degli altri giocatori e anche comunque rispetto anche per voi per non creare nulla di pilotato quindi cerco di riassumervi gli eventi in modo abbastanza dettagliato e conciso all'interno di una stanza di vita di infermieria il gruppo trova una ragazzina malconcia inteperita dopo aver portato fuori anche l'ultima bambina decidono che questo luogo va fatto esplodere grazie ad un libro di storie inoltre riconoscono la strana foresta intorno alla casa danzante che si è creata a Whitron trovano inoltre una stanza con un lavatoio dove al posto di saponi o unguenti generici per lavare il corpo gli si trovavano delle spezie in questo fatidico momento ada si è messa in testa una cosa la persona di tutti questi infanticidi deve morire così nel momento in cui incontrano la nonna nan ovvero la vecchia strega che abita quel luogo e che da da mangiare ai troll i bambini ada la prima cosa che fa è bloccarla impedire le movimenti così da non evitarle di fare incantesimi e le spezza il collo provistando in giro nella sua stanza inoltre scoprono che ognuno di quei bambini all'interno della torre dell'orologio è stato adottato da nan quindi col consenso di Whitron e portati tutti all'interno così da avere praticamente una scorta virtualmente infinita di di cibo per lei e per i per i troll salendo inoltre arrivano all'interno della zona dei meccanismi della torre dell'orologio da qui oltre ai rumori degli ingranaggi che si muovono tulio nell'anlis riescono a sentire la voce di bella belvorica una ragazza rapita imprigionata da nan per tenere calmo logrivic un giovane drago bianco servo di nazena poi sconfitto dai nostri impaviti avventurieri per questa sessione scomparsa è tutto alla prossima